Musica Buonasera ai telespettatori di Infostudio, ben ritrovati con la nostra informazione. Il consigliere regionale del centro-sinistra Giuseppe Aieta è indagato per corruzione e assieme a lui risultano indagati anche il sindaco di Acri Pino Capalbo, il sindaco di Longo Bucco Giovanni Pirillo e poi Emilio Morelli e l'imprenditore nel settore della sanità Giuseppe Chiaradia. Aieta in mattinata è stato interrogato per diverse ore dal procuratore Pierpaolo Bruni mentre veniva eseguito un decreto di perquisizione a carico del consigliere regionale che lo ricordiamo è stato appena rieletto. Alla base dell'inchiesta ci sarebbero proprio alcuni episodi legati a promesse di voti in cambio di favori proprio nelle ultime elezioni regionali. In un caso in particolare Aieta sempre in cambio di voti si sarebbe impegnato per ottenere la proroga della subconcessione dello sfruttamento delle acque termali delle terme luigiane. E a proposito di elezioni regionali i conti sembrano non tornare. Oggi è arrivata la conferma di una cosa di cui vi avevamo già parlato la scorsa settimana. Ci sarebbero diverse anomalie nel conteggio dei voti per il rinnovo del consiglio regionale. Dunque ci sono diversi candidati che stanno valutando l'ipotesi di eventuali ricorsi da presentare dopo la proclamazione degli eletti che è prevista, dovrebbe essere prevista per domani. Salvatore Gaetano, il primo dei non eletti tra le fila della Lega Calabria nella circoscrizione centro ha richiesto a circa 40 comuni della sua circoscrizione la visione delle tabelle e dei verbali elettorali per accertare l'effettiva rispondenza con i voti pubblicati dal servizio eligendo del Ministero dell'Interno. Nella sola città di Crotone dice i verbali mi assegnano 46 voti in più. Dunque attendo di visionare anche tra l'altro quelli di Catanzaro, La Mezzia Terme, Ciro Marina e Cutro dove maggiore era l'aspettativa rispetto al numero dei voti. Nella circoscrizione nord invece il Carroccio non ha ottenuto il secondo seggio per soli 15 voti e dunque il primo dei non eletti Luigi Novello sostiene che il partito di Roma ha già predisposto un ricorso per avere chiarezza sui diversi errori riscontrati. C'è poi anche Giuseppe Gentile candidato consigliere della Casa delle Libertà escluso nonostante 7.821 preferenze. Anche lui starebbe valutando il ricorso e proprio domani come dicevo dovrebbero essere resi noti numeri ufficiali con i nomi degli eletti e non sono escluse sorprese. Andiamo invece a Catanzaro dove è stato convocato in seduta urgente il Consiglio Comunale. Domani alle 11 sarà chiamato a decidere sulle surroghe dei 5 consiglieri di minoranza che si sono dimessi, a prendere atto dei componenti della Giunta Comunale del Vice Sindaco e poi a discutere della causa di decadenza nei confronti del consigliere Tommaso Brutto per assenze ingiustificate. Immediata la reazione della senatrice del Movimento 5 Stelle Bianca Laura Granato che afferma di aver presentato un nuovo esposto alla procura guidata da Nicola Gratteri e dalla Corte dei Conti su precisi fatti ha detto legati all'inchiesta a Gettonopoli, lo ripeterà tra un po' nell'intervista che vi proporremo. La senatrice ha chiesto anche l'intervento immediato del prefetto di Catanzaro in merito alla convocazione urgente del Consiglio Comunale avvenuta spiega in fretta e furia al fine di proseguire alla cieca lungo la strada dell'affarismo politico senza vergogna, dell'affossamento della democrazia e della dignità dei cittadini catanzaresi. E proprio a proposito di Bianca Laura Granato vi proponiamo la seconda parte dell'intervista che abbiamo realizzato con lei proprio sulla vicenda Catanzaro. Lo sentirete, dirà la sua su quello che pensa stia accadendo a Catanzaro cioè mantenere la sottotraccia, qualsiasi reazione o presa di posizione relativa alla vicenda a Gettonopoli per arrivare al 24 febbraio l'ultima data utile per arrivare alle elezioni, per dover indire le elezioni anticipate. La data clou è quella del 24 febbraio, trascorsa quella l'amministrazione comunale di Catanzaro avrà un altro anno prima che si torni alle elezioni. E per questo, afferma la senatrice del Movimento 5 Stelle, Bianca Laura Granato che la maggioranza che guida il comune del capoluogo fa finta di nulla rispetto a quanto emerso dall'inchiesta a Gerione, ai più conosciuta come Gettonopoli. In ballo c'è la gestione dei 40 milioni di euro di agenda urbana e dell'intero piano regolatore cittadino con al centro il nodo cruciale dell'area di Giovino. Ed è proprio attorno a tutto questo che la maggioranza si è ricompattata mettendo fine ad una crisi farlocca. Sicuramente sì, anche grazie al fatto che purtroppo, ahimè lo devo dire noi è stata aumentata la soglia degli affidamenti diretti a 150 mila euro quindi questo adesso sarà un'occasione, sicuramente è stata valutata come un'occasione da non perdere per il gruppo di maggioranza per portare avanti delle politiche che incrementerebbero i loro consensi. A gestire tutto potrebbe dunque essere un consiglio comunale la cui attendibilità, dice la Granato, è ormai compromessa e che potrebbe prendere decisioni importantissime praticamente senza il controllo della minoranza e lasciando in mano la gestione formale del comune al neonominato vice sindaco nel caso in cui il sindaco Sergio Abramo assumesse qualche incarico in regione. Ecco perché la data chiave è quella del 24 febbraio. Oltre quella data, diciamo, eventuali elezioni saranno rinviate di un altro anno e quindi praticamente è molto probabile che la situazione in corso sia tenuta sotto controllo anche ecco mediaticamente proprio per evitare che prima di quella data ci possano essere sorprese che portino diciamo ad anticipare le elezioni a maggio perché altrimenti si potrebbe votare già a maggio e noi invece chiederemmo che il sindaco desse le dimissioni assieme a tutti gli altri consiglieri. Dalla sua esperienza e dalla sua conoscenza di Catanzaro quanto esiste questa concreta possibilità che il sindaco si dimetta? Dipende forse dalle pressioni che riusciremo a fare anche come cittadini attivi. Sì, spero che la cittadinanza in un frangente del genere dove vede che ci sono sostratti spazi di democrazia importanti che non si limitano soltanto all'aspetto ideale della questione ma anche all'aspetto materiale, la gestione di importanti finanziamenti. Spero che la gente finalmente si mobiliti e che chieda conto di quello che si sta facendo e che in qualche modo metta in un angolo il sindaco e gli altri consiglieri perché finalmente lasciano loro l'ultima parola. Un'ultima cosa, lei è già stata dal procuratore Gratteri per chiedere particolare attenzione su tutta questa vicenda, in particolare sulla futura gestione di questi fondi e non so se è già stata anche la Guardia di Finanza, aveva preannunciato che ci sarebbe andata. Sì, lo farò e a breve comunque chiederò ulteriori documenti con i quali supporterò un approfondimento delle indagini che potrebbero in qualche modo condurre a una soluzione del caso. C'è un'altra inchiesta che sta facendo tremare, questa volta una parte della magistratura del distretto di Catanzaro, mi riferisco all'inchiesta Genesi. Il personaggio principale di questa inchiesta, il magistrato Marco Petrini, ha lasciato il carcere di Salerno ma non potrà tornare in Calabria. Petrini, che è presidente della seconda sezione della Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro e della Commissione Tributaria, era stato arrestato il 15 gennaio scorso dalla Guardia di Finanza di Crotone, accusato di corruzione in atti giudiziari, in alcuni casi aggravata dall'aver favorito esponenti dell'andrangheta, perché avrebbe accettato denaro ed altri regali in cambio del proprio interessamento in processi penali e tributari. Nel corso degli interrogatori il magistrato ha collaborato con gli inquirenti, tanto che pare che l'inchiesta si stia allargando fino a coinvolgere anche altri magistrati e non solo. Dopo aver rinunciato al ricorso al Tribunale della Libertà, gli avvocati di Petrini hanno fatto istanza al GIP chiedendo la revoca della detenzione in carcere e chiedendo che Petrini potesse risiedere fuori dalla Calabria, che poi è il territorio in cui si sta svolgendo, in cui si è svolta l'inchiesta Genesi. Il GIP dunque scarcerato Marco Petrini ha ordinato l'obbligo di dimora fuori dalla Calabria. Ora Cosenza con una maxi operazione antidroga che ha coinvolto 45 persone accusate di gestire il sistema di dispaccio lungo l'Esaro. 45 persone, una vera e propria organizzazione che si sarebbe fatta forte, secondo gli inquirenti, anche della vicinanza alle locali cosche d'indrangheta. Rifornivano di droga tutte le piazze di spaccio dell'Esaro. Cocaina, eroine e hashish che acquistavano dai narcos della provincia di Reggio Calabria per poi rivendere a Roggiano Gravina, Tarsia, San Lorenzo del Vallo, Spezzano Albanese, Acri e San Marco Argentano. Ma le 45 persone coinvolte nella maxi operazione antidroga Valle dell'Esaro, secondo gli inquirenti, costituivano un'organizzazione a sé stante. Perché chi la guidava, i fratelli Antonio e Roberto Presta, è legato da parentela stretta con il boss Franco Presta, ergassolano ed elemento di vertice dell'indrangheta del nord della Calabria. E anche su questo puntava l'organizzazione nell'imporre il suo controllo sul territorio con la violenza, che esercitava anche con violenti pestaggi contro chi non pagava. Il gruppo poteva inoltre contare sulla disponibilità di armi da fuoco, anche da guerra, posti sotto sequestro, due imprese e 32 immobili per un valore di circa 2 milioni di euro. Traffico di droga connotato da molta violenza, perché la famiglia che lo gestiva è una famiglia di indrangheta e quindi abbiamo molti episodi di pestaggi, di spedizioni punitive, proprio a chi non pagava. La caratteristica è che in modo mafioso controllavano in modo minuzioso tutto il loro territorio e nessuno poteva ovviamente andare a vendere droga se non facente parte di questa famiglia di indrangheta e era talmente asfissiante la vente e il controllo che anche, come diceva prima il dottore Messina, anche la squadra di calcio del Ruggiano, l'allenatore, i calciatori compravano la cocaina da questa famiglia. Questa massiva attività di spaccio di stupefacenti nascondeva una capacità altrettanto massiva di controllare capillarmente il territorio, la possibilità di ottenere una provvista da utilizzare attraverso questa attività, tra virgolette, dei militari, da utilizzare per sovvenzionare il capo zona, insomma il noto presta, nonché tutti i soggetti che fanno parte dell'organizzazione e che sono in stato di arresto. E oltretutto una sorta di bilancio di almeno un milione all'anno, insomma questo è il calcolo dell'impegno economico e del profilo economico che consentiva anche di pagare gli accoliti. Il profilo di questa organizzazione, per la quale è contestato anche il carattere armato dell'organizzazione perché sono state individuate anche le disponibilità di armi da parte dell'organizzazione, come è stato detto è un'organizzazione che si radica in un contesto di indrangheta. Gli esponenti dedicati al traffico della cocaina non traevano i proventi direttamente dallo spaccio della sostanza estufacente ma venivano stipendiati dai vertici dell'associazione. Quindi tutto il provento del traffico della cocaina doveva confluire in questa cassa comune dell'associazione per la quale c'era una contabilità minuziosa dei due fratelli presta che erano i vertici dell'associazione, una contabilità che teneva conto anche delle necessità di parenti e possiamo dire soggetti di livello superiore anche nel panorama andranghettistico, il sostentamento, il pagamento delle spese legali, il sostentamento anche dei viaggi necessari per i colloqui carcerari che venivano fatti. A Crotone invece la squadra mobile ha tratto in arresto un uomo di nazionalità libanese con l'accusa di tortura. L'uomo è stato riconosciuto mentre si trovava all'interno del cara di Sant'Anna di Isola Capurizzuto, è stato riconosciuto da una delle sue vittime, un ragazzo somalo che era arrivato qui a Crotone proprio alla fine di gennaio dopo essere sbarcato dalla Ocean Viking e che nel cara di Sant'Anna ha riconosciuto uno dei suoi torturatori all'interno di un safe house, un campo profughi in Libia e dunque lo ha subito segnalato alla polizia. A sua volta però il giovane è stato riconosciuto anche dal suo aguzzino che lo ha avvicinato, ha tentato prima in vano di corromperlo comprando nel silenzio, poi invece lo ha minacciato e infine ha chiesto un permesso per poter uscire dal campo. A quel punto è intervenuta la squadra mobile che nel frattempo aveva preso tutta una serie di altre informazioni per verificare il racconto del ragazzo somalo. Ma sentiamo ai nostri microfoni il capo della squadra mobile di Crotone, Nicola Lelario. Attività di accertamento da parte della squadra mobile che è partita da una segnalazione che è arrivata da un cittadino somalo il quale ha segnalato che all'interno del campo Sant'Anna, di Isola Caporizzuto, dove lui si trovava in quanto richiedente asilo aveva riconosciuto un soggetto di nazionalità libica che lo ha identificato come suo torturatore quando lui si trovava in Libia all'interno di una safe house. Ha raccontato a lui le torture e poi com'è che avete agito in così poco tempo? Qual è stata l'urgenza? Lui ha descritto con novizia di particolari, grazie all'ausilio di un interprete, quello che gli era successo, che gli era capitato nel Nord Africa. Abbiamo potuto quindi in qualche modo appurare una certa veridicità, fondatezza di quello, nonché plausibilità, di quello che praticamente lui ha dichiarato. Dopodiché sulla scorta di evidenze che si sono verificate nel giro di poche ore, ossia il fatto che la persona che era stata segnalata come torturatore aveva avuto un precedente contatto con la sua vittima e che c'era stato uno scambio all'interno del quale dapprima il torturatore aveva cercato di comprare il suo silenzio e a fronte della negazione da parte dello stesso vi era stata poi una minaccia abbastanza concreta di fargliela pagare qualora avesse parlato con la polizia. Ecco che abbiamo appunto verificato che il cittadino libico ha cercato di lasciare il campo e quindi da qui un'accelerazione che ha portato al fermo di polizia. La persona è in carcere ed è stato appunto disposto il carcere da parte della stessa distrettuale antimafia di Catanzaro competente per materia. Restiamo in provincia di Crotone, a Cutro in particolare, perché il prefetto di Crotone ha nominato la commissione d'accesso al comune di Cutro, su indicazione del Ministero dell'Interno. La decisione è stata presa sulla base degli elementi emersi dall'inchiesta Thomas, condotta il 15 gennaio scorso dalla Guardia di Finanza, su delega della DDA di Catanzaro. In tre mesi prorogabili, in altri tre, la commissione dovrà verificare eventuali condizionamenti o infiltrazioni da parte della criminalità organizzata presso l'amministrazione comunale di Cutro. Noi in chiusura, come sempre, vi lasciamo con la nostra pillola dedicata alla nostra trasmissione. Io scelgo Calabria. Noi in chiusura. Ci siamo trasferiti in uno dei vigneti di Caso Comercio, in realtà il vigneto più antico che è quello adibito all'allevamento del Magliocco Canino, che è il vitigno principe di questa zona. Quali sono le caratteristiche di questo vitigno? La caratteristica principale del Magliocco Canino è l'acidità. È un vitigno molto tardivo, infatti già partendo dalla vendemmia. La nostra vendemmia è tardiva. Noi vendemmiamo a metà ottobre, novembre. Ci sono state annate in cui abbiamo vendemmiato anche a dicembre. Dipende dalla condizione meteorologica. Generalmente passiamo dalla fase della fruttificazione, che avviene appunto nella fase della vendemmia, dopodiché alla caduta delle foglie. E come sta avvenendo in questo momento, e quindi nel pieno dell'inverno, passiamo alla potatura invernale. A seconda appunto del vitigno che abbiamo, perché noi abbiamo anche il greco bianco, quindi per il greco bianco utilizziamo un tipo di potatura che si chiama cordone speronato. Per il Magliocco Canino invece utilizziamo un metodo francese che si chiama guillot, che nello specifico lo stanno in questo momento facendo i nostri ragazzi. Ci stiamo addentrando nel vigneto, raggiungeremo Giovanna che sta procedendo alla pota dei tralci. Giovanna, quali sono le caratteristiche di questa tecnica? Praticamente viene fatto la pulizia della vigna e viene lasciato lo sperone in giù, il capafrutto in su. E si sceglie quello più migliore, ad esempio ci sarebbe anche questo, però questo è troppo lontano dalla pianta, quando io lo taglio forza e si rompe, allora lo dobbiamo eliminare. E va pulita la pianta, liberata e fatto il capafrutto. Non sono tutte uguali le pianti, allora cambiano di statistica l'una con l'altra. E si limita, e questa è la pianta pronta. Un altro tipo di pota, sempre nel guillot, si sceglie sempre quella migliore al filo, retta nel filo e questa è l'unica. Si abbassa, si prova la misura, si tagliano i punti dove escono le gemme, queste sono le gemme, poi abbiamo le gemme di corona e noi dovremmo contare quattro punti vegetativi per ogni filo. E si fa la pota e si lascia. Sperone, pulizia della pianta, sempre un punto migliore si deve scegliere, perché questo lo sperone serve per la pota dell'anno prossimo, invece per quanto riguarda il capafrutto, la frutta di quest'anno. E si finisce così, niente di particolare. E beh, lei dice niente di particolare, in realtà ci vuole una grande esperienza, una grande sensibilità proprio nel riconoscere, proprio perché le piante, come gli esseri umani, sono tutte diverse l'una dall'altra. Infostudio termina qui, grazie per l'attenzione e arrivederci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS